Amici della Pallavolo Piemontese, bentornati su Piemonte Volley Online, il settimanale web dedicato a voi. Oltre 20 pagine ricche di news, foto, inchieste e curiosità. Le festività natalizie si sono concluse, il 2014 ha lasciato il posto al nuovo anno e le squadre sono tornate in palestra, pronte a scendere in campo. Se vuoi leggere il resoconto dei campionati regionali o nazionali o di quelli giovanili, non perdere questo numero di PVO. Un ampio reportage sui tornai natalizi e sulle avventure in maglia azzurra dei nostri giovani talenti. E ancora i calendari illustrati delle società per il 2015, le interviste per l'inchiesta sul settore maschile, i giudizi sulle pagine Facebook delle nostre società e tanti auguri di buon compleanno a tutti i tesserati nati dal 7 al 13 gennaio. Tutto questo e molto altro nel primo numero di PVO del nuovo anno. Il Volley vive qui!